Il calcio ha raccontato generazioni a confronto. Il Centro Sportivo Arvedi ha ospitato oggi il convegno organizzato dalla Lega Pro e dalla US Cremonese dedicato all'evoluzione del calcio negli ultimi decenni. Moderatore Nicola Binda è responsabile delle pagine DB e Lega Pro della Gazzetta dello Sport che ha animato un interessante dibattito con ospiti di prestigio. La crisi che c'è in Italia oggi colpisce anche il mondo del calcio, in particolare questa Lega Pro che è un settore che ha poche risorse e si affida molto sulle finanze dei vari presidenti e delle varie proprietà. La strada tracciata dalla Lega Pro di puntare sui giovani è sicuramente la migliore in questo momento perché consente alle società di fare calcio senza doversi svenare. Il problema è che c'è un'offerta altissima di calciatori giovani perché tante squadre lanciano dei giovani. Purtroppo però nelle categorie superiori, soprattutto la Serie A, non vengono sempre a pescare qui. Nonostante sia una grande offerta la domanda non è all'altezza, si preferisce andare sugli stranieri con tutti i rischi del caso perché ambientarsi in Italia è sempre difficile. Invece sarebbe utile per tutto il calcio italiano se la Serie A investisse più in calciatori italiani in modo da movimentare il movimento dei calciatori e tenere in Italia le risorse economiche che appunto sono quelle che sono. Riuscire comunque a dare un'occasione a questi giovani perché in questo momento in Serie A spazio per i giovani ce n'è poca. Questa è la storia. O che sei un fenomeno o che in Serie A non giochi. C'è poca credibilità da parte di tutti verso questi ragazzi che hanno delle grandi qualità. Io l'ho potuto vedere in questo campionato. Lo vediamo nel campionato di Serie B un po' meno ma la Lega Pro è giusto quello un campionato rispetto alla primavera mi sembra che sia molto più formativo e chiediamo ai ragazzi di potersi esprimere. Nell'occasione sono stati consegnati due premi istituiti dalla Lega Pro e dalla Gazzetta dello Sport nati con l'obiettivo di valorizzare i giovani del campionato di Lega Pro. Entrambi i premi, il premio Laudano come miglior marcatore giovane e il premio Cestani come miglior giovane della categoria, sono stati assegnati alla giovane promessa dell'Albino Leffe Andrea Belotti. Classe 93, 12 reti segnate in 30 partite e 2.597 minuti disputati con una media voto della Gazzetta di 6,55. È un'emozione grandissima ricevere questi due premi istituiti dalla Gazzetta e dalla Lega Pro. Sì, frutto del lavoro, del duro lavoro che ho fatto quest'anno e che cercherò di fare gli anni futuri, cercando sempre di migliorarmi tutto e cercare di conquistare altri premi anche se non più importanti ma anche se questi sono già importanti. Ascolta, 20 anni, soltanto 20 anni e hai già un ruolino di marcia di questo tipo, che te ne pare? Lo vedo che stai tremando, sei emozionatissimo. Sì, sono emozionatissimo. Certo, 20 anni, aver fatto un campionato di Lega Pro a questi livelli è importante. Però non bisogna mai mollare perché ci vuole un attimo, basta una sfiga, sentirsi già arrivati che ti cralla il mondo addosso e non fai più niente. Quindi sempre umile e con i piedi per terra. Cosa vedi nel tuo futuro? C'è già qualcuno o qualche società che sta chiedendo di te? Sì, ho saputo che ci sono un po' di squadre che stanno chiedendo, però ancora sono dell'Albino e vedremo come fare.